Sistema antincendio guasto, uscite d'emergenza, difettose telecamere sui dipendenti per questo. I carabinieri hanno chiuso la discoteca alle mie spalle, ci troviamo in pieno centro a Retino. Il locale è finito infatti al centro di un'ispezione che rientra nell'ambito dei servizi straordinari di controllo e vicinanza dei locali notturni frequentati da giovani da parte dei militari della Compagnia di Arezzo, assieme ai vigili del fuoco, all'ispettorato Carabinieri del Lavoro ed infine IMSS. Dopo i fatti di Ancona, si è infatti intensificata l'attenzione da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei vari locali da ballo. In seguito al sopralluogo è stata disposta la chiusura temporanea dell'attività. Il locale di Via Madonna del Prato è stato infatti passato al setaccio, mentre all'interno era in corso una serata. Le verifiche hanno interessato vari aspetti, tra cui la regolarità dei contratti di lavoro, il rispetto nelle norme sulla sicurezza dei lavoratori e degli obblighi relativi alle leggi antincendio. Durante il controllo sono emerse però numerose violazioni. È stata infatti rilevata la presenza di telecamere per il controllo del personale dipendente, uscite di sicurezza ostacolate, porte tagliafuoco difettose e addirittura il sistema antincendio guasto. Pertanto per la discoteca è arrivato un conto salato da pagare. Oltre alle sanzioni pecuniarie, circa 2.000 euro, è stata infatti disposta la chiusura dell'attività sino alla regolarizzazione delle violazioni accertate.